Ciao a tutti, sono il maestro internazionale Maximiliano Pérez e benvenuti a un nuovo video di Maxi Gioca Online. Ricordate, se volete vedere alcuna apertura particolare, per favore, scrivetela nei commenti e sicuramente io la giocherò. Sì? Ok, cominciamo 5 più 3, altra volta, ok, che in questo caso giochiamo incontro di Nicholson, ok, ok. In questo caso giocherò con D5, come puoi vedere in tutti i partiti sto giocando altre varianti, no? E6, cavallo qui e alfiere E7, giocherò. Questa è la variante Petrosian, cavallo F6, ok, questo è un gambito di donna rifiutato, C3, ok. Dopo questo è come una difesa, come un'apertura catalana, no? Ok, arroco corto, alfiere G2, e la mia domanda qui è cosa succede dopo D per C4, no? Questa è la mia domanda qui. Perché dopo questo, l'interessante è che non c'è donna A4. Ok, A4 direttamente, cavallo C6, posso giocare attaccando qui e dopo con l'idea di giocare con cavallo A5. E se il mio opponente gioca non della migliore maniera, forse ho un vantaggio di un pedone, no? H6, cosa succede dopo questo? Mi sembra che, sì, cavallo, alfiere F4. Qui stavo pensando in cavallo D5, non so se è buona, penso che sì. Cavallo D5, ok. Se cattura qui, posso catturare con il pedone, o un pedone in più, semplice, no? Arroco corto, sì, questa è la giocata, la mossa più normale. E qui devo pensare se è migliore di catturare in C3 oppure in F4. E ovviamente non è una decisione semplice. Dopo cavallo per F4 ho la coppia di alfiere, questo è buono, ma la cassa E5 è buona per il bianco, no? E dopo E3 il centro è fortissimo. Non so se questo è lo migliore. Dopo cavallo per C3, lo stesso con il centro perché lui potrà giocare con E4, scusa. E infatti alcune situazioni come donna D2 sono difficili, no? Ok, questo non è semplice. Questo è il cavallo per F4, forse è la migliore giocata, no? E dopo cavallo A5 con un piano prossimo di cavallo V3. Posso giocare cavallo A5 direttamente, no? Anche il problema con cavallo per F4 è che dopo re H1, torre G1, può essere un attacco forte incontro mio, no? Non lo so. Alfiere D6, altra giocata interessante qui. Più difficile questa escezione, no? Non è semplice. Ah, posso giocare alfiere F6. Sì, sì, questo è interessante perché... Perché questa giocata? L'idea è la seguente. Se lui gioca E3, posso giocare con G5 in alcune volte, no? Perché questo alfiere non c'è moltissime caselle, no? Dopo cavallo per D5 può catturare con il pedone, no? Questo sta bene. E dopo altra giocata, può catturare qui e dopo il pedone in D4. Sì, penso che questo sta bene. Infatti in alcune situazioni posso giocare con il pedone in D5. Questo anche è interessante, no? Se cavallo E5 può catturare qui e dopo cavallo per C3. E questa posizione è buonissima. C'è un pedone in più. Sì, mi sembra che sta bene questo. Una cosa più importante di ricordare è che io non so tutte le aperture. Sto giocando per concetto. E con questo ho voglia di dire che quando tu stai giocando in una posizione, forse non conosci come è la migliore situazione teorica, tu puoi giocare per concetto. Questo è più importante, sì? Ok, qui cavallo per D5 penso che è buonissima, no? Cavallo per D5. D per D5, cavallo per C3. Se lui gioca donna per D8 posso giocare infatti... Ok, no, no, ha giocato questo. Ok. La domanda qui è se, per esempio, donna per D1 è buona, no? Perché dopo cavallo D2 lui si mangerà questo pedone, no? Questo non è buono per me. Ok. Forse non era buono il cavallo per D5. Ok, dobbiamo pensare un po' qui. Perché lui ha... Una pressione non... Non semplice per me. Al fine D7 penso che è buona. Sì. Questa sta bene. Cavallo D2 è il problema, no? Ok. Cosa succede dopo C6, per esempio? Cavallo per C4, donna C7, F4, torre D8. Sì, sì, penso che forse questo è lo migliore. Perché dopo cavallo D6 ho torre D8. Sì, C6. Perché C6? Perché ho voglia... Infatti ho bisogno di evitare un po' l'attacco sulla diagonale, no? Dopo donna C7, l'idea è giocare con torre D8. E dopo forse giocare con torre D8 e a V5. È vero che non ho il pedone in più, ma è vero anche che ho la copia di alfiere. Questo non è... Meno importante, no? Ok. Interessante giocata. Torre B8. Forse buona. L'idea è giocare con alfiere D7. Dopo torre D8, no? Alfiere D8. Eh... Sì, sì, sì. La posizione sta bene. Infatti un'idea qui è giocare con B5, no? N'alcun momento. Torre D1. Ok. E qui posso giocare con alfiere D7, no? Non c'è problema con questo. Alfiere D7, torre F di 8. Alfiere D8. E penso che è una posizione normale, no? Igualità. Igualità. Ok. Torre F di 8. Sì, torre F di 8. Posso giocare. Non c'è problema. Ok, sì. Questa giocata è un po' più complicata, no? Perché lui sta minacciando C5. Infatti posso giocare con tona A5. Questo anche è interessante, no? Perché sto minacciando qui. Non so se è buono, ma mi sembra interessante, no? Che posso giocare qui. Dona A5. Dona A5. E cosa succede qui? Perché dopo cavallo per B7 posso giocare Dona A5, no? Ui, scusa. Il computer. Un po' matto. Ok, Dona A5 è la minaccia. Dopo cavallo per B7. Infatti, Dona C7 è buona, penso, no? È una buona disegnazione perché sto minacciando Alfiere C8, no? Perciò non può catturare qui. L'unico problema è che cosa succede dopo F4, no? O Donald. Sì, sì. Questa situazione non è terribile, penso, no? Non è una giocata terribile. No, 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 no. È lo stesso. Adesso, Alfiere C8 oppure posso giocare Re F8 e Alfiere E8? Devo dire che non mi piace molto questa posizione, no? Non è una posizione più comoda. Che giocare Alfiere E8. Dopo cavallo per E8. Torre per E8, torre D7, Re F8. Ah, questa era l'idea. Ok, interessante. Non l'avevo visto. Chiaro, è logico, no? È logico giocare in questo modo. Ok. E adesso sto... Molti problemi, no? Moltissimi problemi. Ok. Re F8, non so. Non so come giocare qui. Più difficile questa situazione, no? Torna E4. Torna D4. Mmm, che giocata strana, no? V6. Cosa succede dopo questo? Posso giocare là? Ok. Va bene. E qui... Devo giocare velocemente. Ok, posso giocare qui. Mmm, non è buona questa giocata. È bruttissima. Bruttissima questa giocata, perché dopo A per V5, AC per V5. Ah, posso giocare con la torre, ma non mi sembra buona, no? Penso che non è la migliore giocata, ma giocherò questo, sì. Qual è il problema? Dopo cavallo per V5, torre per D4. Ah, no, questa giocata è buonissima. Sì, sì. Ah, donna V4, forse. Donna V4. Posizione... Difficile, no? Chiaro, può mangiare la... Sì, 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 sì. Questa posizione più difficile per me. Abbastanza difficile, no? Mmm. Ok, cercherò di giocare qui, trovando alcune... Ok, sì, 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 torre per D1. Incredibile, no? Che fortuna. Che fortuna. Incredibile, no? Questa posizione stava persa, no? Stava persa completamente. Ok. L'ultima... L'ultimi partiti, no? Sono più affortunato, no? Perché non stavo bene questa situazione, ma... Vediamo un po', perché mi sembra più interessante, no? Questa situazione. Sì, dopo questo ho vantaggio, no? Sì, questo è vero. Fere C5, H6, Fere F4, cavallo D5, arrucco... E qui. Qual è la migliore giocata? Cavallo A5, direttamente, chiaro. Alfiere F6 non è buona. Interessante questo, no? Perché a prima vista era buonissima. Alfiere E5 e qui cavallo per E5 è chiaro. E questo è l'errore, no? C per E5, cavallo per C3, V per C3, Alfiere E7. Non avevo visto il cavallo in D2, no? Dopo C6, C6 è altro errore, no? Torre V8 era migliore. Cavallo per C4 e qui V6, chiaro. Evitando cavallo A5. Questo era il mio problema, no? Dona V3, Alfiere A6 e dopo Torre Fd1 posso giocare con Dona C8. Non c'è nessun problema con la casa D6, no? Dopo Alfiere C6, per esempio, posso giocare Torre D8. E questa posizione, sì, forse è buona per me, no? Questo non c'è problema. Per esempio Torre per D8, Dona per D8, Torre D1. Un po', sì, difficile, ma posso difendere qui. È vero che non è la posizione più comoda, ma è vero anche che ho la copia di Alfiere, no? Perciò questa situazione è interessante. Ma il problema, qual era il problema qui? Prima di tutto Alfiere F6, no? Cavallo A5 è la buona risposta, no? A4 non è buona anche, che interessante. Cavallo A5, dopo cavallo E5, cavallo per F4, C per F4. Ah, io ho la minaccia di cavallo V3 mangiando il pedone in D4. Questa è la migliore variante. Ok, più interessante, no? Più interessante imparare con questi partiti e alcune situazioni di apertura anche, no? Il problema qui dopo D per C4, qual è? A4, no? A4 non è buona. Cavallo A5 è la giocata teorica. E dopo cavallo C6, Alfiere per C6, sì, questa è una posizione più conosciuta, no? Cavallo per E6, donna E8, cavallo per E7, donna per E7. A prima vista questa posizione non è buona per il nero, ma abbiamo un attacco più interessante, no? Per esempio, se donna per C4, possiamo giocare C per D4, donna per C4, E5. Questa situazione è più interessante per il nero, no? Perché dopo donna H4, torre V8, no? Dopo torre per V2 in alcune situazioni. Può giocare con Alfiere V7, anche, no? Per esempio a Rocco Corto c'è alcune partite più interessanti, no? Torre V4. Poromariov, Krabsit, Gulli, Meier, sì, tutti giocatori fortissimi, no? E4, questa posizione è più interessante, H6, come un gambetto volga, no? Beh, mi sembra. Più interessante di vedere questo, no? Abbastanza interessante. Ma, ok, la partita è stata giocata di altra maniera. E aspetto vi sia piaciuto questo gioco, vi sia imparato qualcosa. E non dimenticare di mettere questi like, ok? Più importante. E ci vediamo nel prossimo video di Maxi Ciocca Online. Tante grazie.